Le luci d'artista si è finalmente accesa a una polemica, pare che la Corte dei Conti abbia parlato di danno erariale, ci sono due consiglieri comunali sotto inchiesta. Parliamo delle luci d'artista di Salerno. È una piccola goccia rispetto a quello che noi abbiamo visto in questi anni. Come viene gestita la spesa pubblica a Santa Lucia è sotto gli occhi di tutti, solo chi non vuole vedere non se ne rende conto.